riportano in spiaggia quel sasso e salutami il mare e digli che prima o poi tornerò a trovarlo magari ci vado al tramonto e aspetto la luna senti la vuoi la bicicletta nuova? gli dico un passo della nuova signora lei è la sinistra del sciogra dottore sto impazzendo mi sto facendo impazzire anche me vuoi uscire per favore? ma perché vuoi farmi un ritratto? perché il compito dell'arte è rendere eterna la bellezza e tu? come stai? come sto? male questa malattia è terribile perché è invisibile